Non solo ospedale, regione al lavoro sulle liste d'attesa Ricetta anti-inflazione nelle farmacie comunali, tre mesi di sconti Patto fra lega ambiente comune per migliorare il parco Miralfiore Compie vent'anni l'unione dei comuni Pian del Bruscolo La vis torna a casa, festa per lo stadio Benelli rinnovato Una buona serata e un buon fine settimana a tutti voi amiche, amici, telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro telegiornale Rossini News Notiziario delle Canale 80 che in questo venerdì 29 settembre apriamo anche oggi occupandoci di sanità perché dopo l'annuncio di ieri riguardante il via alla gara d'appalto europea per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro la Regione Marche attraverso l'assessore Filippo Saltamartini ha enfatizzato anche l'impegno che l'amministrazione sta portando per l'annosa problematica relativa alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie Io posso dire che su questo tema la riforma che è stata fatta che è entrata in vigore a gennaio che come voi sapete ha sostituito l'azienda unica regionale con delle aziende territoriali fa sì che noi abbiamo un monitoraggio giornaliero delle prestazioni ieri c'è stata una riunione con tutti i dirigenti e le prestazioni a 10 giorni nella nostra regione sono garantite al 96% dei casi e quelle a 60 giorni nel 92% dei casi significa che 4 cittadini sulle 10 giorni e 8 cittadini sulle 60 hanno dovuto ricorrere probabilmente a prestazioni a pagamento però siamo una delle regioni più performanti e i dati sono inequivocabili il sistema sanitario dà alla regione Marche 11 milioni in più di finanziamento perché siamo tra le 5 regioni benchmark quindi non ci sono evidentemente 15 regioni italiane che ammettono di dare alle Marche un finanziamento maggiore sottraendo le loro risorse questo è un dato ormai oggettivo i problemi evidentemente non sono risolti io leggo sui social ogni tanto persone che chiamano i CUP e che non ottengono la prestazione qualcuno scrive chiedete a Saltanartini che i problemi sono risolti no non sono risolti però siamo tra le prime 5 regioni benchmark e lo voglio dire ancora una volta i cittadini quando chiamano i CUP se hanno una prestazione a 10 giorni o a 60 giorni se la prestazione non c'è hanno il diritto lo sottolineo il diritto ad essere richiamati al sistema sanitario noi abbiamo fatto un'inversione importante rispetto al passato prima il CUP rispondeva chiamate domani dopo domani la prestazione magari un cittadino di Urbino si eseguiva a San Benedetto o a Macerato o da un'altra parte oggi la prestazione deve essere eseguita nella provincia e hanno il diritto di essere richiamati quindi c'è un gruppo di operatori che deve richiamare i cittadini per dare la prestazione stiamo parlando e concludo di prestazioni LEA perché tutte le prestazioni non hanno questo tipo di garanzia ma le prestazioni LEA, cioè le prestazioni salvavita devono essere garantite e in questo noi abbiamo dato delle direttive inequivocabili naturalmente le aziende hanno delle difficoltà ma cerchiamo di superarle Restiamo in qualche modo in tema di salute lo facciamo parlando di farmacie quelle comunali di Pesero e di Gabicce Mare che preparano una importante ricetta anti-inflazione da qui a fine 2023 Le 10 farmacie comunali di Aspes, 9 su Pesero e 1 su Gabicce Mare aderiscono al trimestre anti-inflazione rispondendo ad un'intesa sottoscritta dal Ministero del Made in Italy e da oltre 30 associazioni nazionali 10 farmacie in cui dal 1 ottobre al 31 dicembre sarà applicato uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmaciecomunali.it una iniziativa presentata oggi alla farmacia Andrea Costa è stata dal Presidente Aspes Luca Pieri e da Rossana Biagioni, Assessore di Gabicce Mare con delega alla Sanità E' uno sconto veramente importante se tenete conto del fatto che il patto anti-inflazione va a sconti medi dal 3 al 10% massimi rispetto a quelle che sono le categorie merceologiche che hanno aderito e noi facciamo queste cose in più in aggiunta a questo facciamo uno sconto del 25% su tre servizi che sono fondamentali e importanti uno sull'elettrocardiogramma il secondo sull'olterpressorio e il terzo sull'oltercardiaco sono tre servizi importanti che facciamo in tutte le nostre farmacie dove è possibile proprio attraverso la telemedicina avere questo tipo di prodotto e di servizio e anche qui lo sconto è non di poco se considerate che l'elettrocardiogramma normalmente costa 30 euro da noi lo trovate a 22,50 euro in questo trimestre così come l'olterpressorio da 50 a 37,50 euro e l'oltercardiaco da 80 a 60 euro Credo che questa iniziativa vada in aiuto in risposta alle richieste dei cittadini e soprattutto sia un segnale importante per far capire che le amministrazioni sono vicine anche a tutte le problematiche che riguardano la sanità più volte abbiamo parlato di difficoltà anche nella nostra provincia nella nostra regione perché i cittadini fanno difficoltà ad accedere ai servizi anche le farmacie in questo caso sono venute in aiuto creando dei centri medici dove è possibile dare risposte immediate a tutte le richieste che vanno oltre alle lunghe file di attesa che purtroppo ci sono per fare le normali cure le normali richieste da parte di tutta la popolazione specialmente gli ultra 65 anni fare gli acquisti anche di medicinali o di prodotti da banco non è sempre facile perché vanno a erodere i bilanci delle famiglie che sono veramente sempre più limitati Gli sconti nelle farmacie comunali sono rivolte ad un ampio paniere di prodotti Arriveremo entro il 15 d'ottobre a proporne 28 a marchio farmacie comunali.it oggi sono 15 già pronti nelle nostre farmacie ma nel giro di qualche giorno riusciremo a proporre queste e la cosa interessante è che vanno sia per i prodotti per la salute ci sono ad esempio degli sciroppi per gli adulti, per i bambini, per la tosse o alcuni per la cura personale considerate questo che l'ultima indagine che è stata fatta da parte del ministero dice che gli italiani sono pronti a tagliare il 23% delle loro spese personali per le cure per la salute e il 38% per quello che riguarda la cura personale quindi avere aderito e noi come farmacie comunali produrre uno sconto così importante del 25% su questi prodotti come vi dicevo prima va proprio incontro a quelle che sono le esigenze delle fasce più deboli della popolazione Sono in corso approfondimenti anche con l'esame di sistemi di video sorveglianza in merito all'atto vandalico che ha sfregiato il bronzo della palla di Pomodoro un danneggiamento alla sfera grande del quale vi abbiamo dato ieri notizia nel nostro telegiornale su segnalazione di Roberto Malini del comitato Pesero Città d'Arte e Cultura le incisioni sul monumento presumibilmente con un taglierino sembrerebbero opera delle ultime 48 ore ed è stato segnalato un esposto in tal senso a Comune, Prefettura e Soprintendenza Ed un altro comitato si è formato a Pesero per lo sviluppo ambientale e inclusivo del Parco Miralfiore un unione di intenti che parte da Legambiente e Comune di Pesero e che vuole mettere in pista nuove progettualità per l'ulteriore miglioramento del polmone verde cittadino Legambiente ha accolto appunto la richiesta del Comune di fare del Parco Miralfiore un parco sempre più frequentato dai cittadini sempre più supporto della vita sociale dei cittadini pesaresi è per questo che noi abbiamo proposto di fare un progetto che preveda una nuova organizzazione del parco un coinvolgimento naturalmente in questo progetto dei cittadini pesaresi e in particolare dei giovani gli studenti infatti da questo punto di vista abbiamo preso contatto già con le scuole con il Cecchi, il Mengaroni, il Genga che parteciperanno a questo progetto ma il progetto è aperto anche alle altre forze e noi intanto abbiamo costituito un comitato nel quale ci sono dei professionisti ovviamente che sanno progettare appunto un parco che sanno leggerlo e quindi suggerire cose importanti per usufruirlo sempre di più è un comitato aperto perché questo è soltanto il primo nucleo noi gradiremmo molto coinvolgere tutte le forze che sono interessate ad avere un parco come questo che è una cosa bellissima all'interno della nostra città per utilizzarlo al meglio io penso che, ripeto, in 23 c'è lo spazio per tutte le sensibilità si sta lavorando con Lega Ambiente appunto con il professor Salbitano nel progetto del parco della salute il contenitore è in grado di ospitare tutto è chiaro che la priorità mia dell'amministrazione è la sicurezza perché questo posto è vissuto, è vivibile se trasmette sicurezza non quello che succedeva tanti mesi fa dove sui giornali un giorno sì, un giorno sì erano riportati episodi di microcriminalità che si verificavano intorno al parco questo problema lo stiamo superando piano piano assieme alla grande disponibilità energia che ci mettono anche tutte le forze dell'ordine adesso ogni mese proviamo a mettere un tasselli più per renderlo appetibile e funzionale non solo per la città ma vogliamo che diventi uno strumento anche di accoglienza turistica tutti parlano di ambiente e di benessere un luogo più bello di questo è difficile trovarlo auspichiamo che le altre organizzazioni ambientaliste vogliano partecipare a questo progetto per il parco Miralfiore ma non solo perché noi parliamo appunto del verde della città di Pesaro e il parco Miralfiore è uno dei luoghi poi ce ne sono tanti altri importanti noi vorremmo che ci fosse un collegamento con questo progetto proprio di tutto il verde urbano della città per renderla più vivibile perché come diceva anche l'assessore Belloni noi oggi siamo alle prese con una crisi climatica importante e gli alberi la natura il verde sappiamo bene che svolgono una funzione principale prioritaria per risolvere in qualche modo per attenuare anche in qualche modo questi fenomeni quindi la collaborazione è aperta a tutti noi non abbiamo preclusioni di nessun genere se ci sono state polemiche nei mesi scorsi io penso che lavorando concretamente a questo progetto noi possiamo superare anche queste polemiche perché lavoriamo per il parco e soltanto per il parco dal 2 ottobre al 22 dicembre sarà effettuato l'annuale censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge un campione di famiglie a Pesaro l'Istat prevede per l'anno 2023 un tipo di campionamento da lista per il quale i cittadini riceveranno a casa una lettera con tutte le informazioni per la compilazione del questionario che potrà essere effettuata in tre modalità in autonomia online utilizzando le credenziali comunicate nella lettera inviata dall'Istat recandosi al centro comunale di rilevazione in Largo Mamiani 26 o chiamando lo stesso centro comunale per effettuare la compilazione in modalità telematica L'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo ha celebrato oggi il suo ventesimo anniversario con un momento di confronto istituzionale sui progetti e sui benefici portati avanti dall'Unione in questi vent'anni ne abbiamo parlato con il presidente della stessa Unione, Palmiero Ucchielli 20 anni di gestione associata dei servizi prima con un consorzio poi con l'Unione dei Comuni per realizzare degli obiettivi che era un po' difficile realizzarli ognuno per conto nostro se penso alla piscina era difficile che un comune di 10-15 mila abitanti 5 mila abitanti, 3 mila abitanti avesse potuto realizzare un'opera del genere invece abbiamo realizzato la piscina abbiamo realizzato una scuola media di 1200 ragazzi con 200 allunni oggi abbiamo realizzato diciamo nella continuità istituzionale di questi vent'anni un nido di 120 posti che diventeranno 120 perché abbiamo avuto i finanziamenti per altri 60 posti e abbiamo programmato un campo per l'atletica un campo per il rugby un campo di atletica una serie di servizi che solo stando insieme noi siamo la seconda Unione d'Italia la prima delle marche e con la presenza anche di una città capoluogo di provincia come il comune di Pesaro siamo sei comuni Tavuglia, Gabice, Gradara, Pesaro Monbaroccio e Vallefoglia circa 140 mila abitanti e il tentativo di una programmazione di una gestione unitaria l'Unione dei Comuni ha una sua identità nella crescita costante di questi anni diciamo che unire le forze l'Unione fa la forza consente di dare più servizio ai cittadini per esempio adesso abbiamo avuto un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro 60 posti del nido che si aggiungono ai 120 che avevamo un nido che funziona alle 7 del mattino alle 7 di sera che consente a 200 famiglie 180 famiglie di lavorare marito e moglie di avere due redditi il raddoppio della piscina 8 aule interdisciplinari ecco una serie di servizi e poi la polizia locale per esempio grazie alla porta del Comune di Pizzero noi abbiamo almeno nei weekend H24 e poi anche il rapporto con la regione con lo Stato con l'Europa sono rapporti che ti danno più forza insieme abbiamo più progettualità e più potenzialità anche di realizzazione dei nostri obiettivi e restando nei territori dell'Unione Pian del Bruscolo ieri sera all'azienda Vetrotec di Vallefoglia la regione Marche ha presentato nuovi importanti bandi a sostegno dello sviluppo di impresa vediamo il nostro approfondimento su questo argomento oltre al bando che presentiamo oggi qui a Vallefoglia presso l'azienda Vetrotec che è un bando dedicato all'innovazione di prodotto con riferimento alla Twin Transition quindi transizione sia digitale che ambientale abbiamo praticamente in previsione l'uscita di diversi bandi che usciranno presumibilmente verso la fine dell'anno inizio anno nuovo che sono dedicati alle start up innovative oltre che all'industrializzazione dei risultati della ricerca e abbiamo ulteriori bandi dedicati poi all'internazionalizzazione delle imprese in particolare un bando fortemente voluto dal territorio che fa riferimento a internazionalizzazione intesa in termini di showroom incoming fiere e cura dell'immagine dell'azienda anche attraverso i social e gli storytelling quindi aspetti di sicura rilevanza che ci vengono richiesti anche da questo ambito che oggi andiamo a trattare con questo tavolo che è quello dell'arredo per me è un onore naturalmente ospitare questo evento la regione mi ha concesso questo gran privilegio di poter essere qua oggi a divulgare questa loro importante informazione su bandi futuri e bandi imminenti sono bandi sull'innovazione il nostro tessuto è un fulcro centrale per aziende piccole e medie imprese che sono anche legate alla subfornitura e sono veramente veramente innovative e lanciate verso nuovi investimenti sono bandi importantissimi c'è la necessità perché l'innovazione è praticamente quello che fa la differenza fra le aziende avevamo proprio bisogno di fare questo passo perché abbiamo una buona industria a tutti i livelli nella nostra zona e di conseguenza pensare che ci sono finanziamenti per fare innovazione ci arricchisce tutti e sostanzialmente ci dà una mano per guardare il futuro la regione ha a disposizione degli strumenti importanti che mette a sua volta a disposizione delle imprese soprattutto la programmazione dei fondi europei PORFESR e siamo in una fase già di avvio dove un bando in modo particolare rivolto alle imprese quello della ricerca già in essere il bando più grande mai attivato dalla regione Marche parliamo di 45 milioni di euro per la ricerca però oggi siamo qui per presentare soprattutto un altro bando che è quello dell'innovazione del prodotto e un bando di 28 milioni di euro siamo qui a raccogliere a dare delle informazioni ma a nostra volta anche a raccogliere delle indicazioni perché il bando sarà di uscita prossima fine ottobre probabilmente inizio di novembre però alcuni dettagli sono ovviamente da costruire di certo abbiamo la dotazione che è 28 milioni di euro sarà diviso a seconda anche degli ambiti individuati dalla regione come gli ambiti di specializzazione intelligente oggi siamo qui a parlare proprio a uno di questi ambiti che è quello della casa arredo e all'altro ambito quello della meccanica per il bando che oggi presentiamo abbiamo a disposizione 28 milioni di euro invece per il bando delle start up innovative si tratta di 9,5 milioni il bando dell'industrializzazione e della ricerca un bando importante di 12 milioni per l'internazionalizzazione abbiamo messo un complessivo di 29 milioni e il primo bando che esce sarà di oltre 10 milioni dedicato appunto ai temi che dicevamo prima e quindi l'export è uno degli aspetti diciamo che stanno andando meglio è ovvio che il sistema dovrebbe avere un impulso maggiore e queste sono diciamo le situazioni dove noi spieghiamo illustriamo un po' la visione della regione agli imprenditori e vi ricordiamo che domani alle 10 in piazza del popolo è prevista una manifestazione per rinnovare la netta contrarietà alla realizzazione della discarica di rifiuti speciali che Aurora SRL intende costruire nelle colline petrianesi di Riceci nell'occasione della protesta a Pesaro verrà ribadito anche il no al biodigestore di Talacchio evidenziando le rimostranze di tanti cittadini verso una rata gestione sul tema rifiuti l'associazione ambientalista la Lupus in fabula evidenzia come nell'attuale demolizione della scuola dell'infanzia a Scarabocchio in via Rigonia a Pesaro siano stati abbattuti tre grandi tiglie e un esemplare di Pino D'Aleppo per esigenze progettuali legate alla riedificazione della nuova scuola l'associazione sottolinea come ancora una volta vengano abbattuti alberi sanissimi in una politica edificatoria che continua a voltare le spalle ai benefici ambientali cambiamo argomento e parliamo di cultura perché da domenica primo ottobre saranno in vendita i nuovi abbonamenti per Fano Teatro 2023-2024 stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con Amat che è pronta ad accogliere allo stesso Teatro della Fortuna da ottobre ad aprile un ricco cartellone di 24 serate di spettacolo per otto titoli che prevedono in scena nomi quali Lino Guanciale Massimo Lopez Tuglio Solenghi Geppi Cucciari Lella Costa Massimiliano Galli e Fabrizia Sacchi la vendita degli abbonamenti si svolgerà presso il botteghino del Teatro della Fortuna fino al 12 di ottobre il ristorante Pizzeria Farina di Pesaro nella zona mare è stato insignito al Palazzo dei Congressi nella mostra d'Oltremale di Napoli del prestigioso riconoscimento dei tre spicchi dalla celebre Guida Gambro Rosso insieme a pizzaioli di fama nazionale come Sorbillo Bonci Pepe e Bosco un evento molto atteso nel mondo della ristorazione italiana che ha visto premiate con il massimo riconoscimento 103 pizzerie d'eccellenza nazionale questa prestigiosa onorificenza è stata assegnata solo a due pizzerie marchigiane Mamma Rosa di Ortezzano in provincia di Fermo e la Pesarese Farina che si è distinta anche come l'unica rappresentante dell'intera provincia di Pesaro Urbino ed ora apriamo la pagina sportiva con le immagini del taglio del nastro al completamento dei lavori di riqualificazione allo stadio Benelli di Pesaro festa che è avvenuta ieri sera per la Vis Pesaro che dopo un settembre in esilio con cinque trasferte nelle prime cinque partite di campionato ritroverà il suo campo nella sfida derby con la fermana prevista lunedì sera 2 ottobre i cori della curva Prato cantati all'unisono con prima squadra e giovanissimi biancorossi ricordano quanto sia alto il termometro della passione per la Vis Pesaro e applaudono il ritorno del calcio nel suo secolare fortino di Pantano giovedì sera il completamento dei lavori allo stadio Benelli con taglio del nastro istituzionale è diventato una grande festa biancorossa con tutte le squadre dalla Serie C ai bambini riuniti sul nuovo manto erboso lavori completati come da crono programma con la prima squadra che si congeda dall'esilio di due partite casalinghe giocate a Recanati avere un campo così è un valore aggiunto per noi è molto importante perché qua c'è tutta la gente di Pesaro abbiamo dovuto fare cinque trasferte su cinque partite e non è stato semplice quindi non vediamo l'ora di giocare lunedì ecco la città è piena di gente generosa è una città di mare dove si sta bene poi sta a noi fare risultato e far sì che questa gente sia fiera di noi perché queste persone di Pesaro ci tengono tanto alla Vis Pesaro applausi per tonucci compagni che sfilano fra i bambini biancorossi applausi per un intervento da 900.000 euro concentrato soprattutto sul radicale rifacimento dell'esausto manto erboso un nuovo campo che nell'occasione ha ricevuto anche la benedizione del Vescovo Sandro Salvucci questo è veramente un ottimo intervento non solo il manto erboso è stata l'occasione anche per rivedere tutti i sottofondi l'impianto di drenaggio l'impianto di irrigazione sostituite le panchine con queste che vedete qua alle mie spalle insomma un intervento complessivamente da 900.000 euro realizzato dalla dita del Fino e concluso nei tempi che prevedevano proprio questo nel senso abbiamo chiesto alla società per le prime due partite un po' di tolleranza e la prossima partita sarà in casa proprio in questo bellissimo stadio ci voleva perché purtroppo il campo del Benelli nonostante la continua straordinaria manutenzione non reggeva più era troppo vecchio quindi abbiamo rifatto il drenaggio abbiamo fatto tutto l'impianto di irrigazione il nuovo campo le panchine nuove quindi un intervento da 900.000 euro e continua il nostro investimento a step sullo stadio prima abbiamo fatto la nuova tribuna l'illuminazione nuova il campo sintetico supplementare ora questo speriamo il prossimo anno di trovare le risorse per la copertura della tribuna Prato e sicuramente quest'inverno dal crono programma che abbiamo fatto con l'Aspes verrà demolita la vecchia tribuna Prato insieme ad Aspes stiamo portando avanti un percorso piuttosto avanzato che vedrà proprio la riqualificazione di questa parte di quella che è la vecchia tribuna Prato e consentirà anche di ridare spazio più spazio quello che è il quartiere andando a migliorare anche l'assetto proprio generale dello stadio la copertura e poi la vera e propria silesione in questo momento non abbiamo un finanziamento anche che prevede la copertura della tribuna però insomma ci stiamo arrivando ci arriveremo ed ora sul nuovo campo non resta che giocarci con la vis pronta a vendere cara la pelle per questo debutto nel derby di lunedì sera alle 20.45 con la fermana una squadra che come avete visto non molla mai da sempre tutto io sono fiero di allenare questi ragazzi perché l'avete visto in tutte le partite è una squadra che dà dall'anima dal primo al 95esimo poi sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo continuare continuare a fare punti giocando a calcio perché poi attraverso il gioco arrivano i risultati non c'è un'altra strada dal calcio al calcio 5 perché scocca all'ora della prima gara di campionato per l'Ital Service nella Serie A di Futsal una nuova avventura per la società di Lorenzo Pizza e Simona Marinelli che comincia dal campo amico del Palafiera domenica alle 18.15 per i peseresi il primo avversario sarà la L84 Torino reduce della sconfitta in finale di Supercoppa con la Feldieboli che a sua volta aveva sconfitto i peseresi in semifinale e sarà sempre domenica 1 ottobre ma in trasferta a Brescia la prima gara del campionato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in programma nella Tana Lombarda della Germani palla 2 alle 17 per una VL che poche ore fa ha presentato le maglie ufficiali che accompagneranno la stagione di Serie A della squadra allenata da coach Buscaglia divise che sono state svelate questo pomeriggio nella suggestiva cornice del cortile dei musei civici per una VL che giocherà il proprio campionato all'insegna della promozione del brand Pesaro capitale della cultura italiana 2024 un brand che farà bella mostra di sé nelle casacche gialle e rosse con la novità di bordature marroni indossate questo pomeriggio per la prima volta dai cestisti Ford e Stazonelli nello sfondo delle maglie RA presentate da ProdiSport fa mostra di sé anche la mappa di Pesaro a presentare questo abbigliamento sportivo oltre ai vertici della VL Costa Arceci e Magnifico anche la presenza del sindaco Ricci degli assessori Vimine e della Dora del direttore di Pesaro 2024 Straccini e della regione Marche nella persona dell'assessore Francesco Baldelli che nell'occasione ha annunciato l'aggiudicazione di un bando regionale da parte della VL così come di altre squadre regionali che ricevono fondi e in cambio diventano veicolo di promozione della importanza turistica della stessa regione Marche E con lo sport concludiamo questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questa venerdì 29 settembre è dedicato all'avvicinamento a Cantiano Fiera Cavalli una grande manifestazione tradizionale del territorio alle pendici del Catria che si svolgerà nella frazione di Chiaserna l'8 e il 15 ottobre ne parleremo con il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini intervistato dal nostro Antonio Astuti e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che come sempre vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e invece si chiude questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi